Allora, con Silvestro, difensore del Giochiano, parliamo un po' di questa partita. Per la verità, voi avete iniziato bene perché avete giocato in settimane in recupero, avete vinto. Quest'oggi, come anche gli andici di ieri, tutti 0-0, insomma, tranne 1-0 presso il Forio, non sono a destra di risultati a destra, ci stanno un po' ancora le...